La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito a Volpiano e Chivasso nel Turinese una confisca di beni nei confronti di due fratelli imprenditori calabresi pergiudicati e rispettivamente di 58 e 61 anni già condannati in primo grado nell'ambito del processo scaturito dall'operazione Platinum Dia. La misura è il risultato di una complessa attività di analisi del materiale acquisito dalla Dia Piemontese nel corso proprio di quest'ultima inchiesta che ha portato a documentare e ricostruire un imponente patrimonio accumulato da due imprenditori ritenuti affiliati alla locale andranghettistica di Volpiano e considerato riconducibile all'impiego di capitali provenienti dalle attività illecite della struttura criminale. La confisca, che ha colpito non solo i due fratelli ma anche i loro familiari stretti e dei presunti prestanome, ha interessato in particolare 8 compendi aziendali delle quote societarie di un'impresa di ristorazione, 14 immobili, 6 auto e 19 rapporti finanziari per un valore complessivo di circa 8 milioni. Entrambi i fratelli sono stati anche sottoposti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza col divieto di allontanarsi senza autorizzazione e per la durata di 5 anni. Il provvedimento è stato emesso dalla sessione misure di prevenzione del Tribunale di Torino su proposta avanzata dalla Dia e dalla Procura della Repubblica del Capoluogo Piemontese. L'operazione Platinum Dia presse origine dalle dichiarazioni rilasciate da un collaboratore di giustizia discendente di due famiglie più influenti dell'andrangheta aspromontana.